Allora le domande qua sono, ma che c'è un pezzettino qua volante che mi è rimasto, allora qua dice nel corso della settimana i miei mi hanno riassunto le domande, quanto tempo occupa la preparazione di questa diretta? Allora adesso è logaritmica al contrario, adesso tende a zero piano piano perché ovviamente cosa succede? Che durante la mia normale attività in cui mi informo, studio, vado, leggo, metto via le cose che mi interessano e dico ah voglio parlare di questo, ah voglio parlare di quello. Dal punto di vista invece come dire tecnico è successo che all'inizio era tutto molto complesso, ora continua a non funzionare perché c'è sempre qualcosa che non funziona, tipo adesso pare che non vada l'audio su Instagram ma funzioni fortunatamente invece YouTube, Twitch, LinkedIn e bene Facebook, cosa che non andava la volta scorsa perché capita e perché purtroppo è veramente così, voi pensate che dobbiamo far funzionare lo studio in 3D che già è complicato, ficcarci dentro tutte le varie robe quindi tutti i contenuti in tempo reale, live perché come vedete qua dall'orologio siamo in diretta, i movimenti delle telecamere, tutto questo con le sigle e la regia che faccio tutto da solo io, faccio tutto da qua, insomma ha una serie di complicazioni però piano piano si stanno stabilizzando, stabilizzando è un parolone in questo mondo però diciamo che non sono molto affidabili perché schiacci, non vai, però più o meno mi sta occupando meno tempo, quindi tende a occupare meno tempo. Seconda domanda, ancora senso stampare libri cartacei, cartacei? Cartacei oggi che ci sono mille modi per leggere il digitale allora sì, i cavalli continuano a esserci, circolano, strada, è il mezzo più utilizzato? No, non è il mezzo di trasporto più utilizzato, c'è ancora chi ha ara col cavallo, gli piace, c'è chi va a cavallo per piacere, c'è chi va a cavallo per dovere, pensate banalmente i poliziotti a cavallo a Londra, ce ne sono tanti, c'è chi, e non sono solo di immagine, qua hanno un cavallo proprio, non sono solo quelli sfollagente col cavallo, c'è proprio poliziotti normali, tu cos'hai? Ah io vado con la moto, tu vado con il cavallo, che miseria, cioè nel senso, però è vero, e quindi sarà così, cioè l'appassionato di carta, ah che bella, me la ricordo, ma più passerà il tempo, meno sarà così, pensate quando sono arrivate le prime penne a sfera, ma voi non avete idea di quanti schifati c'erano, la gente proprio diceva, ma che schifo, ma ci scrivi tu con quella roba lì, perché usavano la penna stilografica, io a scuola ho iniziato la penna stilografica, non col calamaio, ma il mio banco aveva ancora il buco del calamaio, quindi sono sicuro che prima di me c'era chi diceva, no eh, questa penna stilografica con la cartuccia, dove siamo nella modernità, qua, ecco questa roba qua, e quindi è una questione di evoluzione, però sì, effettivamente il libro è un mezzo, quindi il bloccone di carta, peso, ancora però i lettori digitali non hanno dato la stessa esperienza, ci si avvicinano ma non è la stessa esperienza, quindi boh, da capire, dipende cosa devi fare, se devi farti un giretto per la campagna, magari un cavallo rimane sempre piacevole, se invece devi andare da Milano a Roma diventa un po' più un guaio, ed è uguale, se devo portarmi un bel libro che amo e lo voglio proprio consumare durante una vacanza, me lo porterò, se mi devo portare un mucchio di libri per fare qualcosa, forse sta meglio dentro un lettore digitale. Altra domanda, secondo te la didattica digitale a distanza sostituirà quella in presenza? Definitivamente no, e come avevamo già detto, siamo esseri umani, esseri sociali, ci sono ancora un mucchio di cose che non trasferiamo one to one umanamente, che il digitale non riesce ancora a replicare, magari ci riuscirà, per ora no, e quindi abbiamo ancora un gran bisogno di questo, io stesso non vedo l'ora di rincontrare le persone dal vero, qual è la cosa che ti gratifica di più del tuo lavoro in questo momento della mia vita, dove senza essere diventato ricco per scelta, nel senso che magari avrei avuto anche tante possibilità, semplicemente cerco di mettere l'etica davanti a tutto e quindi non faccio un mucchio di cose che altri farebbero immediatamente, ma non illegali, sto parlando cose magari non perfettamente proprio etiche e io faccio un po' fatica e quindi come tutti, insomma, non è la mia priorità, la mia priorità è un'altra, è la mia passione, vabbè ovviamente a livello personale, però qua parliamo di lavoro e ho trovato questa, come dire, questa grande gratificazione che è quella che mi arriva ormai da un bel po' di anni, fortunatamente, di aiutare le persone, aiutare a capire, aiutare a evitare le truffe, evitare le fregature e sono, oggettivamente sono felice, sono gratificato, sono riconosciuto per questo, insomma, quindi riconosciuto nel senso, non per strada, voglio dire, anche perché vivendo a Londra fortunatamente sono sereno proprio a, posso, no, non ho quella, tra virgolette, problema, perché è un piacere le prime volte, poi come sapete, insomma, quando diventa tanto, dopo magari può diventare un problema per alcuni, per me questo non è, non fa parte della mia vita, dico riconosciuto nel senso professionalmente, e questa cosa mi fa piacere, devo dire che ha un po', questa fama recente, già che ne parliamo, ha un po', me l'avete chiesto, ha un po' messo in ombra la mia, come dire, carriera di questi 30 anni che è stata fatta di ricerca, di università, no, è capitato che sempre quelli che non sanno googolare dicono, ah, cosa vuoi saperne tu che sei nella televisione generalista di Bitcoin? e tu fai, eh, magari se per caso andassi a leggere, magari il mio, anche perché io dico che il primo Bitcoin li ho comprati a 14 dollari, ma non è vero perché mio figlio ha fatto i conti, dice guarda che no, era 0,01 quando li hai comprati, perché in realtà io non li ho comprati per fare i soldi, io ho comprati per fare i test, io qualsiasi roba esca io la testo, e quindi adesso c'è tutta la mia famiglia impazzita perché dicono, sono sicuro che negli hard disk da qualche parte ci saranno, quindi boh, chi lo sa, adesso comincerò a cercare gli hard disk di Bitcoin, vabbè, dice cosa faremo, cosa facciamo se troviamo miliardi e miliardi, ma non so, innanzitutto, intanto metalli diamo in beneficenza, qualcuno ne ha bisogno, poi dopo con il resto ci pensiamo, va bene, che altro c'è qua? niente, non c'è più niente, o c'è ancora delle qualcosa? sì, no, qua ci sono delle slide sbagliate